Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E poi vi faccio sapere, se vengo io muovati, vi dico allora, rimaniamo che rimangono altri 500 euro, io casomai ti porto 500 euro e 1000 euro li facciamo per sé, e decidi diciamo il segretario di mandarvi 1000 euro per fare, ti mandiamo un po' comunque, tu hai versato, tipo lui dice no, non c'è bisogno, ci dà ma tu si va ma, e poi diciamo, il mese prossimo, ad aprile mi mandi gennaio, febbraio e marzo, ti faccio più il mese, d'avete no? No, non c'è bisogno. Grazie. 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 Grazie.